Ora sentiamo un altro Assessore Lombardo della Giunta di Roberto Maroni, quello alla Casa Housing Sociale Pari Opportunità, Paola Bulbarelli. Assessore Bulbarelli, c'è tanta attenzione per le famiglie e anche per quanto riguarda gli affitti e le case. So che c'è un'iniziativa nuova molto importante. Sì, abbiamo cercato di dare una risposta a noi di Regione per il Fondo Sostegno Affitti, dopo che lo Stato ha completamente azzerato questa voce invece in fondamentale per dare un aiuto alle famiglie. Diamo una mano a quelli che veramente non riescono a pagare l'affitto, che non riescono ad arrivare a fine mese. Perciò Regione Lombardia ha stanziato 13 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni di euro per quelle famiglie che si trovano in situazione di disagio acuto, 3 milioni per quelle famiglie che purtroppo sono costrette a non pagare l'affitto, a non pagare il canne per morosità incolpevole. Cosa significa? Significa quelle persone che hanno perso il lavoro, quelle persone che magari si trovano in ospedale. Perciò un'amorosità incolpevole che non dipende dalla loro volontà. È un sostegno importante perché comunque dallo zero dello Stato noi abbiamo destinato 13 milioni di euro. In accordo anche con i sindacati, perciò è stata una risposta importante che dà una mano alle famiglie che non ce la fanno. Mi piace una giornata come quella di oggi, qui in Consiglio, in cui si discute il futuro della Regione. Che sensazioni hai lasciato? La discussione è importante ed è sempre importante. Questo PRS, questo piano di sviluppo regionale, sono 60 pagine di obiettivi futuri, di quello che si prefigge di fare a Regione Lombardia nei prossimi anni. Noi ci crediamo tutti. Io per la mia parte mi sono occupata appunto della casa, dell'housing sociale e delle pari opportunità. Sono temi che coinvolgono nel vivo le persone. Perciò ho cercato di studiare i miei progetti futuri in modo da essere veramente concreta nelle risposte ai cittadini lombardi.